Assistere al proprio funerale è un po' come fare l'ultima sfilata, no? Viene da chiedersi chi sarà in prima fila. E soprattutto viene da chiedersi chi tiene a me. Vincent, Victor, le due e soprattutto un'azienda di famiglia. Questa maison è tanto fragile e preziosa quanto il pizzo che produce. Siamo davvero appesi a un filo. E lui, suo zio, che tipo è? È straesigente. Invece farò una scenata se ho voglia di fare una scenata. Io sono la direttrice di questa maison. Non venderemo più niente finché Vincent non si dimetterà. La sola strategia possibile è un'idea di rottura e non di continuità. È Paloma Castel. Cosa? Sì, lei ha una visione. Farai la direttrice artistica al posto di Vincent. Lei ha avvisata che di solito a pranzo ci divoriamo a vicenda? Diane Rovelle è ossessionata da Ledoux. È da tempo che vuole acquisirci quella. È il momento di restare uniti come una vera famiglia. Team Ledoux o Team Rovelle? È bene che ci rifletta, Victor. A volte scendere a patti col diavolo è l'unico modo per non soccombere. Se tradisco la mia famiglia, voglio subentrare al suo posto. Al comando. Voglio la presidenza di Rovelle. Cominciamo piuttosto dall'anello debole. Come andare a caccia? Il mio lavoro non è salvare ti, ma salvare la Maison. Siete completamente matti. Immagino sia il peso di un cognome come il nostro. È il peso della corona. Vi sentite divinità scese in terra? Non lo credo affatto, Diane. Io lo so. Spesso le tradizioni impediscono di evolvere. A un certo punto, se nulla cambia, nulla cambia. Puoi evitare di indossare poliestere. Mi fa venire l'emicronia. Non è giusto a lei, ma ne sp hombre. Non è giusto. No è vero. È una grazia del nostro prodotto. Di una vicenda. Ho... 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 Grazie a tutti